Franco, buongiorno, senti, mi manda mia moglie, Maria, perché non abbiamo bisogno del kit quello che dura sei mesi, invece abbiamo il colletto WK140, mi spieghi un attimino come funzionano? Guarda, Nanno Marione, abbiamo questi kit che possono fare a caso di voi, li abbiamo sia per i modelli WK130-131, WK135-136, questo è quello per te, WK140-150, e anche per WK200-220S, questo qua, ora questi sono i sacchetti che fanno per te, WK140-150, che comprendono una confezione da sei, perché è una al mese, vero? Esatto, indicativamente va cambiato una volta al mese, un filtro di protezione del motore, anche questo va cambiato ogni sei mesi, e una confezione di granuli, che comprende tre confezioni all'interno, e anche questo dura sei mesi? Sì, questo anche sei mesi, ne butti un terzo per terra e lo aspiri poi direttamente per lì. Perfetto, penso che Maria rimane veramente contenta, grazie Franco, grazie a voi di PR Store.